Perché le religioni ci chiedono di abbandonare il mondo? Dio non vive lassù, nascosto in qualche monastero. È presente in tutto ciò che esiste. Letteralmente, la parola monaco significa essere solo. Viene dalla stessa radice da cui provengono nomi quali monotonia, monogamia, monopolio, monastero. Un monastero è un luogo in cui molte persone cercano di vivere una vita di solitudine. Questo era il mondo monacale, l'opposto del mondano. E, com'era inevitabile, anche il monaco ha fallito. Optando per l'altra metà, gli è venuto a mancare qualcosa. Imparerà ad essere solo, imparerà la via della beatitudine, sarà beato, ma la sua beatitudine, non potendo essere condivisa, sarà incompleta. E una beatitudine non condivisa, pian piano, si inasprisce e muore. Perfino il netare si può trasformare in veleno se non fluisce più. Il monaco è di gran lunga più beato delle persone mondane. Ma la sua beatitudine non è un fiume. Non scorre, non raggiunge l'altro. Il monaco diventa semplicemente uno stagno, prigioniero di una forma di schiavitù. Ha paura dell'altro. Questo è il punto. Chi vive nel mondo ha paura della propria solitudine, per cui cerca di afferrarsi all'altro. Nel buio invoca la presenza dell'altro a gran voce. Il monaco, invece, ha paura dell'altro perché può disturbare la sua solitudine. Può invadere e usurpare il suo spazio, il territorio che si è conquistato, con tanta difficoltà. Vive nella paura, vive in una buia prigione, circondato da mura, una prigione che si è costruito con le sue stesse mani. Il monaco inalza mura tra sé e gli altri. Evita tutte le occasioni in cui possa crescere l'amore. In questo modo, la sua beatitudine pian piano si trasforma in una morta palude stagnante. E anche lui inizia a sentire la mancanza di qualcosa. Inizia a non poterne più di sé stesso. E la solitudine lascerà presto il posto all'isolamento. A questo punto, se un monaco intelligente, avrà bisogno di un tipo di intelligenza più elevata. Un'intelligenza comune lo porterà di nuovo verso il polo opposto. Oggi i monaci cattolici si stanno ribellando contro la Chiesa e si sposano. A che scopo? Per secoli hanno cercato di vivere soli. Le suore hanno vissuto isolate e i monaci hanno vissuto separati. Esistono monasteri cristiani, come il monte Athos, in cui da mille anni non è mai entrata una donna. Per mille anni consecutivi le porte di quel monastero sono rimaste chiuse alle donne. Neppure le suore, neppure una bambina di sei anni o una bimba di sei mesi è mai stata autorizzata ad entrare. A questo arriva la paura. Ci si può chiedere se lì dentro vivano monaci o mostri. Che gente vive mai in quel posto se possono temere perfino un neonato di sei mesi? Esiste una paura, un terrore infinito. I monaci non escono mai dal monastero. Una volta entrati ad Athos, si è entrati per sempre. Il mondo è finito. Migliaia di monaci hindù hanno vissuto nelle grotte dell'Himalaya, senza mai tornare nel mondo. Ma queste persone perdono qualcosa. Qualcosa di assolutamente essenziale. La condivisione. Vivere significa condividere. E solo condividendo ci si sentirà appagati. Prova a pensare a un sole che si tiene chiuso in se stesso, senza lasciare uscire i suoi raggi. Oppure pensa ad un fiore di loto che tiene chiusi i suoi petali, per cui nessuna fragranza si diffonde all'esterno. Pensa ad un uccello spaventato al pensiero di cantare. Qualcuno lo potrebbe sentire. Se così fosse, questa intera esistenza sarebbe morta. Questi monaci non sono altro che persone morte. Rinchiusi nelle loro tombe. Poco importa che vengano chiamate grotte o monasteri. Conducono una vita che si avvicina molto alla morte. Amore e beatitudine sono il mio messaggio per tutti i miei sagnassin. Era il motto di Rheinisch. È necessario imparare da entrambe le cose. Devi essere fluido. Devi scorrere. Devi sapere come stare in solitudine. E devi sapere come stare insieme agli altri. Devi meditare e amare allo stesso tempo. Solo così sarai integro. E, per me, essere integri significa essere santi. Fino ad oggi l'uomo non è stato santo perché non è mai stato integro. Certo, ogni tanto qualcuno può aver raggiunto la totalità. Un Lao Tse. Uno Zaraustra. Una volta ogni tanto una persona si può essere realizzata. Ma ho l'impressione che perfino la totalità di Buddha potrebbe essere un po' più ricca. Perfino la totalità di Lao Tse potrebbe ampliarsi, arricchirsi. Perfino la totalità di Gesù potrebbe avere qualche dimensione in più. Il mio sforzo è darti, diceva Rheinisch, un'esistenza multidimensionale. Dovresti avere a tua disposizione tutte le dimensioni aperte a un essere umano. Dovresti essere in grado di amare e dovresti essere in grado di raggiungere la beatitudine. E per esperienza diretta ho osservato che solo chi è colmo di beatitudine è in grado di amare. E solo chi è in grado di amare è in grado di essere in beatitudine. Perché non andare sul monte Athos o in un monastero cattolico hindù e scomparire sulle montagne e tenere l'amore per te stesso? Ma credi che il monaco abbia amore? Perché nelle religioni è sorta questa idea che devi abbandonare il mondo? E quel concetto di scarsità secondo cui se dai amore al mondo, alla gente, come potrai darlo a Dio? Se dai il tuo amore a tua moglie, come potrai darlo al tuo Dio? Dunque abbandona il mondo. Non darlo a tua moglie, non darlo a tuo figlio, altrimenti non te ne rimarrà molto. Raccogli tutto il tuo amore e scappa in un monastero e darlo tutto a Dio. E' stupido! Non potrai dare perché l'unico modo per dare a Dio è quello di dare al mondo. Dio è nascosto qui. Dio non vive lassù, ammesso che esista, nascosto in qualche monastero. E' presente in tutto ciò che esiste, nelle rocce, nei fiumi, nelle montagne. Dai! Impara a dare e ti si apriranno molte nuove sorgenti. Sono d'accordo con Anatole Franz che disse di tutte le perversioni la castità è la più strana. La castità è una sorta di avarizia. Non dare a chiunque il tuo amore. E quando tu lo trattieni, la gente crede che tu sia casto. Ma non è così. Sei semplicemente avvelenato. La castità nasce dall'amore, dando amore. La persona casta è quella che incondizionatamente continua a fluire nell'amore. La persona casta è quella il cui amore non è più una relazione, ma uno stato del suo essere. Anche mentre dorme, vibra d'amore. Tutta la sua vita è piena d'amore. Un'infinità d'amore porta castità. Ma la vecchia idea è che se impedirai a tutto l'amore di fluire dal tuo cuore, diventerai casto. Non sarai casto. Sarai semplicemente morto. Diventerai semplicemente nevrotico, perverso. Tutte le religioni, particolarmente il cristianessimo, spingono ad essere ipocriti, a fingere. Senza alcun gusto, né amore, né apprezzamento per il tuo corpo e la tua saggezza. Il tuo corpo ti rende un grande servizio per 70, 80 o 100 anni e tu non gli sei nemmeno grato. Tutte le religioni trattano il corpo come un nemico, spingendoti a torturarlo. La tortura è considerata una virtù. Gioire del tuo corpo nella sua salute, nella sua giovinezza, nella sua vecchiaia e gioirne anche nella morte. Ecco ciò che io insegno, diceva il maestro Reinisch. Il cristianessimo è fondamentalmente masochista. Ti dice di torturare il tuo corpo. Più lo torturi, più sei un santo. E i idioti pronti a questo esistono ovunque. Gente che comincia a fare qualsiasi sciocchezza pur di diventare santa. E per far questo non c'è bisogno né di cultura, né di civiltà, né di intelligenza o genio. Qualsiasi idiota può diventare un santo. Il cristianessimo e tutte le altre religioni sono parte della cospirazione per castrare l'uomo. Hanno distrutto la dignità dell'uomo. Hanno dato solo senso di colpa e peccato. Per questo chiamo il cristianessimo il più mortale veleno. La Bibbia dice sappiamo che alla fine avremo la vita eterna. Questa è stata la giustificazione del sacrificio e della sofferenza. La pazienza è uno dei pilastri del cristianessimo. E la pazienza è contro ogni ribellione, ogni rivoluzione, ogni cambiamento. La pazienza è l'oppio che droga le persone, mantenendole in un profondo coma. Si muovono come robot. Hanno dimenticato di essere state sfruttate, dissanguate. Permettono che ciò accada. La Bibbia dice che non dovresti cambiare, né fare sforzi per cambiare alcunché, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta così com'è. Questa è la suprema espressione contro la rivoluzione. Il cambiamento, l'evoluzione, il miglioramento delle condizioni di chi è povero o malato. Bene, con queste letture, queste sintesi che ho fatto di alcuni testi, di alcuni libri di Osho Rai Nish, un grande maestro che si può anche interpretare in modo ateo, dipende dai punti di vista, ancora una volta il vostro Sant'Enchan vi saluta. Un abbraccio a tutti e tutti voi che mi avete seguito in diretta e da presto. Grazie di seguirmi e ciao dalla stazione Radio Spreaker Sant'Enchan.